quattro zampe in fiera due giorni dedicati agli amici a quattro zampe e abbiamo anche qualcosa di speciale un red carpet siamo con stefano lamberti uno degli attori di quattro zampe in fiera intanto benvenuto grazie a voi stefano dove nasce la tua passione perché chi organizza questa manifestazione ovviamente ha una grande passione per gli animali questo fuori dubbio però diciamo che noi siamo sono mai sono più di vent'anni che organizziamo fiere per dove mettiamo b2c quindi mettiamo in contatto le aziende con il cliente finale quattro zampe in fiera l'abbiamo ideato nel 2013 dove per darvi qualche numero il mondo del pet del figlio peloso valeva un miliardo all'anno infatturato oggi dopo undici anni vale quattro miliardi e mezzo cinza signoretti lei è un volto nuoto del web cosa ci insegni cinza diciamo che ho fatto un mio metodo di educazione cinofila online quindi aiuto i proprietari a gestirsi il proprio cane quindi a conoscere il proprio cane come fare come comunica il cane insomma corsi online e anche prodotti per il cane fantasticane giusto sì fantasticane in compagnia di due sanni e laura e luisa con i due sanni maschietto e femminuccia maschietto e femminuccia voi siete un volto noto perché fate qualcosa di particolare io ballo la sanni dance con la mia cagnolina sanni lei col suo cagnolino è un influencer ma ha scritto due libri dove racconta della storia del precedente cane che ha avuto sempre beagle e ci ha accomunata questa cosa perché tutti e due con l'esperienza di un altro beagle che abbiamo perso ci siamo ritrovati sui social abbiamo creato le puntate dei sanni posso prendere il libro allora questa è una storia direi anche autobiografica e anche abbastanza commovente esattamente racconta la storia del mio ex cane che è nato quindi con una mielopatia degenerativa quindi è nato per nove anni stato nove anni su un carrellino e della mia storia personale che è molto simile a quella del mio cane e quindi è l'incontro di due anime che erano profondamente destinata ad incontrarsi e camminando incontriamo non solo cani ma anche gatti e siamo in compagnia di un fantastico gatto siamese abissino 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 tu sei famoso su tiktok sì ciao sono nicola e lui è sensei cat è un gatto un po particolare perché comunque è un gatto che non ha paura quasi di niente ha paura dei cavalli e degli applausi non si fa applaudire squadra italiana cani salvataggio siamo in compagnia di gino candeloro ovviamente i cani ci aiutano e ci salvano esatto i nostri cani sono appunto addestrati al salvamento salvamento in acqua naturalmente noi ci occupiamo di acqua sono cani predisposti appunto al salvataggio di persone in difficoltà in acqua a lunga lunga anche a lunga distanza siamo su tutto il territorio nazionale siamo la scuola italiana cani salvataggio come dicevo prima questa scuola ideata da ferruccio pilinga ideatore di questa fantastica storia insomma e l'anno scorso siamo sulla media di 25 30 salvataggi l'anno proprio l'anno proprio quest'anno a volte dove io opero con la mia squadra abbiamo salvato tre persone siamo volontari e ci occupiamo di questa bellissima disciplina ecco e in compagnia degli amici di che si 13 dicembre a milano il sistina da novegro è tutto andrea evans tg evans